Le polemiche attorno a Sonia Bruganelli continuano a infiammare il dibattito pubblico. La sua partecipazione a Ballando con le stelle ha scatenato critiche per il suo comportamento durante le esibizioni, in particolare da parte di Selvaggia Lucarelli. Le tensioni sono arrivate a un punto tale da generare scontri verbali che hanno attirato l'attenzione dei media e del pubblico. In mezzo a questa tempesta mediatica, Sonia Bruganelli ha trovato un'importante alleata in rita dalla Chiesa. L'ex conduttrice di Forum e attuale deputata di Forza Italia ha preso le difese della produttrice, criticando aspramente la giuria del programma e difendendo il diritto alla privacy di Bruganelli, soprattutto per quanto riguarda la sua famiglia. Questo intervento ha evidenziato la solidarietà tra donne in un ambiente spesso ostile e competitivo. La controversia ha avuto inizio quando Sonia ha condiviso su Instagram una toccante foto insieme a suo figlio Davide. Durante una puntata di Ballando con le stelle, i concorrenti hanno avuto l'opportunità di dedicare una performance a una persona cara e Sonia ha scelto di ballare per suo figlio, che sta affrontando un momento difficile. Questo gesto ha commosso non solo Davide, ma anche il pubblico, che ha visto in esso un segno di amore e sostegno familiare. Il post di Davide, accompagnato dalla canzone supereroi di Mr. Rain, ha suscitato numerose reazioni sui social, dimostrando che nonostante le polemiche, il gesto di Sonia ha toccato il Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.